Per quanto riguarda la trattativa, è stata un'opportunità che si è creata un po' all'improvviso dopo che noi avevamo visto non concretizzarsi altre trattative che si erano cercate di portare avanti, ultima quella di Antabia Waller, è venuta fuori questa opportunità e considerato anche che era una situazione per quanto riguarda questo giocatore, essendo comunitario, quindi garantendoci anche delle tempistiche per il tesseramento abbastanza rapide, sempre se poi tutti quelli che sono anche in un laosta internazionale arriveranno in tempo, comunque abbiamo pensato di poter cogliere l'occasione e concretizzare la trattativa con Mesi, è un accordo che inizialmente è di un contratto di un mese e poi eventualmente rinnovabile per tutta la stagione. Le caratteristiche sono differenti da quelle di Waller, è un giocatore che è un po' più un 3 anziché un 2, un giocatore giovane, quindi non con grande esperienza, anche se l'anno scorso a Brindisi ha fatto una buona stagione, però abbiamo pensato anche di cercare di dare un contributo comunque alla squadra per queste due partite pre-pausa, dove poi per quelle tre settimane che ci saranno faremo tutte le possibili valutazioni del caso se ce ne fosse necessità. Giocare queste due partite, anche se molto complicate, con un giocatore in meno abbiamo ritenuto non dovesse essere la scelta più opportuna, se è presentata questa occasione l'abbiamo concretizzata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!